Ivan Lenzoni, 47 anni, dipendente di un'azienda privata, Marinello da sempre vive a Bonascola con la moglie e due figli. Ha deciso di candidarsi con il Movimento 5 Stelle di cui condivide la voglia di cambiamento, la trasparenza e l'innovazione perché lo considera l'unico strumento che può avere un cittadino libero da legami politici per far sentire la sua voce. Sogna con De Pasquale Sindaco un'amministrazione che guardia i giovani non come un problema ma come una risorsa su cui investire per il futuro, cogliendo tutte le opportunità che potranno presentarsi.